Da il mattutino dell'avvenire di anni o sono, prendo lo spunto per introdurre la riflessione di questa giornata e prendo proprio una preghiera pronunziata del grande musicista Gioacchino Rossini. Egli scrive, caro Dio, eccola terminata questa povera e piccola messa, ho scritto musica sagra, o musica maledetta, ero nato per l'opera buffa, lo sai bene, poca scienza, un pochino di cuore, ecco tutto, sii dunque benedetto e concedimi il paradiso. Ecco la citazione del giornale Avvenire. Giacomo Rossini muore cinque anni dopo la sua preghiera spontanea e sincera. Abbiamo scelto quindi questo pensiere del Rossini e può sembrare che fosse fuori riposto. Ma cari amici, ricordiamoci che ciascuno di noi, ogni battezzato, deve scrivere la sua messa, deve celebrare la sua messa. Rossini scrive la messa in musica, ma celebra la messa nella preghiera filiale e di abbandono in Dio Padre. All'espressione, sii dunque benedetto e concedimi il paradiso, possiamo far rispondere Gesù, oggi sarai con me in paradiso. Ecco, ciascuno di noi è chiamato a celebrare la messa. Quando partecipiamo all'Equaristia e il sacerdote sull'altare alza l'ostia, non limitiamoci a guardare l'ostia, immaginiamo di essere uniti a sacerdote che insieme a lui e colui noi alziamo all'Eterno Padre dell'Equaristia. Allora noi partecipiamo insieme, viviamo insieme al sacerdote, l'Equaristia della Santa Messa. Il Signore ci rivolge un invito personale a riceverlo nel sacramento dell'Eucharistia. In verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi vita. Non possiamo rimanere indifferenti e superficiali davanti alla grandezza di questo sacramento e con umiltà e fede ardente dobbiamo prepararci in modo conveniente, sia nell'atteggiamento della preghiera, sia nei gesti, nel modo di vestire, pensare che andiamo in Chiesa davanti a Dio Padre, non davanti a un Sintero, un Presidente della Repubblica, davanti a Dio Padre, davanti a Cristo Gesù. È la gioia di questo momento in cui Cristo diventa nostro ospite, Cibandusce dell'Equaristia, deve esplodere nella preghiera più intima, più raccolta, anche diciamo con la gioia di cantare in Chiesa insieme ai fratelli. Padre Pio mette in pratica l'esortazione di San Francesco, di fatti esprime una fede viva e semplice che partecipa nelle sue lettere. animati da tanti sentimenti, esorta perché vi sia decore e rispetto per la casa del Signore, dà delle indicazioni precise di come comportarsi e entrare in Chiesa, di come essere raccolti e pregare con tanta fede e devozione, anche con le lacrime, perché il Signore ascolti le nostre preghiere. grazie a tutti!